Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi seconda parte del haul o svuota la spesa del discount action che vi ho fatto vedere nella volta scorsa. Innanzitutto volevo ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato nell'ultimo post dove appunto vi ho fatto qualche confidenza. Grazie, grazie davvero di cuore per tutti i commenti, per i commenti privati. Siete stati davvero molto molto carini, vi ho sentito davvero molto molto vicini. Avrei voluto girare prima, negli scorsi giorni, il secondo video appunto dove vi facevo vedere cosa avevo comprato ma mi sono presa un po' di tempo per rimanere tranquilla e per ricaricarmi visto che oggi abbiamo ricominciato a lavorare. Abbiamo ricominciato a lavorare con temperature polari. avevamo stamattina in ufficio 11 gradi perché la caldaia si era accesa ma non c'era l'acqua nei tubi e quindi se sta al frecce tutto il tempo siamo stati al freddo tutto il tempo. Ma va bene così, ho deciso che non me la prendo più speriamo che quest'estate avremo delle temperature un po' più freschine del solito. Cominciamo con tutto quello che ho acquistato che riguarda il beauty, che riguarda l'air care per la Lucia, che riguarda il body care, insomma c'è un po' di tutto, diciamo tutto quello che riguarda beauty, cosmesi, insomma tutte queste cosine qui. Sono state all'action di Lecco delle mie amiche e mi hanno detto che purtroppo alcuni articoli che vi avevo fatto vedere non sono più disponibili. Probabilmente io sono arrivata nel momento giusto ma le offerte cambiano in maniera molto repentina nel giro di pochi giorni probabilmente si esauriscono e ne arrivano delle nuove e quindi sarà mia premura passare una volta alla settimana per vedere che cosa c'è di nuovo. Ma iniziamo. Allora, ho preso queste carinissime salviettine mini in microfibra sia per me che per Lucia molto carini perché hanno i giorni della settimana come potete vedere adesso li apro insieme a voi, uno l'ho un po' sgarrellato e non sono grandissime però sono diciamo dei dischetti un po' più grandi quindi sono molto comode per quando ci si strucca, per quando si tolgono le maschere si mettono in lavatrice, ottimi. Un'amica del canale mi ha consigliato che ci sono anche i dischetti io non so se per la fretta, per così l'entusiasmo di andare a vedere non le ho trovate o non le ho viste comunque andrò a rivedere. e quindi questi sono sette in queste sfumature del rosa, begiolino, lillino e quant'altro e sette salviettine di questa grandezza le ho pagate 2,59 euro in microfibra quindi uno mio e uno della Lucy poi questi sono gli acquisti di Lucia la maggior parte sono acquisti di Lucia si è comprata questo deodorante spray protezione 24 ore per donna vediamo se riusciamo a sentire il profumo lo ascolto fresco, fiorito e anche un po' fruttato e costa per 150 ml 1,11 euro ho letto sui vari gruppi e su internet che comunque tutti questi prodotti sono molto validi e poi li proveremo e vi saprò dire poi sempre Lucia si è comprata questa body cream vediamo se riusciamo a leggerci qualcosa allora crema corpo al profumo di ananas cioè molto invernale crema corpo al profumo di ananas stop 250 ml un pau di 12 mesi e costa 1,49 euro e costa ecco qua molto carina anche la confezione estiva ma lei piacciono queste profumazioni e quindi se l'è comprata poi per la casa la solita scatola di cerotti da tenere di scorta 50 cerotti di varie misure 0,49 centesimi io poi mi sono presa ce ne avevo anche un altro non so dove è andato il Nivea Soft Touch 48 ore di protezione 1,98 euro questi mi piacciono sempre tanto visto che erano in offerta i deodoranti servono sempre poi sempre della stessa linea della crema all'ananas Lucia si è comprata questo scrub da doccia shower scrub la marca è Beauty Depth e costa 1,49 euro per 200 ml ho questo bagnoschiuma cotton flower in gel il pack è bellissimo il colore attrettanto per 400 ml di prodotto 1,49 euro volevo vedere se ecco la maggior parte di questi prodotti sono prodotti in Germania in Germania o in Olanda NL ragazzi scrivetemelo voi NL Olanda o Germania non mi ricordo comunque nel nord Europa poi 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 la Lucy ah beh questo è un altro se ne è comprato un altro con un'altra profumazione sono molto molto carini i pack belli 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 poi abbiamo abbiamo ha preso perché si è presa all'ira di Dio di maschere per i capelli le aveva finite tutte e quindi queste ve le faccio vedere dopo che sono della faccia questa è una borsettona di maschere per capelli ne ha comprate di tutti i tipi ma veramente veramente tante queste sono per la faccia queste per i capelli allora questa maschera per i capelli dove c'è sempre nella parte superiore la maschera della cuffiettina da mettere sui capelli e sotto invece la maschera questa è trattamento con maschera rilassante per capelli in due fasi arricchito con estratto di fior di loto emolliente e idratante speciale per capelli secchi guardavo anche qui dove sono stati prodotti sempre nello stesso posto è vegana e questa maschera costa 1 euro e 39 poi altre due maschere per i capelli i pack sono stratosferici e vi leggo anche qua vediamo italiano maschera per capelli nutriente con estratto di mango e olio di frutto della passione 0,95 per 50 ml che mi sembra tantissima anche perché lucia i capelli lunghi però questa mi sembra che si possa utilizzare in due volte e quest'altra che è sempre della stessa linea vediamo con cosa è maschera maschera per capelli idratanti con estratto di fiori di cactus e olio di avocado applicare la maschera sui capelli umidi dopo il lavaggio e massaggiare lasciare agire dai 3 ai 5 minuti risciacquare molto 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 carine e le mettiamo qua poi questa è per la faccia allora Iron Trattament e anche questa è una maschera per i capelli le confezioni sono spettacolari e vediamo cosa dice perché ha un disegno particolare ci sarà un'applicazione particolare allora maschera per capelli all'olio di argan con cuffia separare le due camere della bustina immergere la bustina con balsamo in acqua calda a 40 gradi per alcuni minuti massaggiare poi il balsamo estratto dalla bustina sui capelli lavati e tamponati risciacquare immediatamente con acqua ma sono davvero molto molto carine e questa costa 1 euro e 39 e della stessa tipologia c'è questa che ha però la cheratina e questa invece è all'olio di argan sempre 1 euro e 39 altra maschera per i capelli ne ha comprate una sbalangata questa che ha la cuffietta zebrata e dice 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 mamma mia ma scusami ho un po' più piccoline maschera in italiano non c'è ragazzi maschera ah si c'è manco lo vedevo maschera per capelli nutriente sempre sempre usare nel solito modo aprire tagliando la linea incollata e distribuire la maschera sulla testa assicurarsi che tutti i capelli siano dentro la maschera prima di fissare con la striscia adesiva massaggiare delicatamente una volta che la maschera è stata applicata sul capello ah la maschera è direttamente nella cuffietta ma dai ma troppo carino lasciare agire 15-20 minuti e poi risciacquare 0,99 e anche questa è vegana ma sono troppo carine e della stessa tipologia ma un po' ghepardata con il fondo viola c'è questa nutriente e anche questa è nutriente penso io guardate che carine e poi vedete dietro c'è il disegno di come applicare la maschera e anche questa è 0,99 ed è sempre vegana poi vediamo qua qui invece abbiamo le maschere per il ah no ce n'è un'altra di maschera di capelli sempre dell'altra tipologia e questa è al cocco 1,39 euro passiamo ora alle maschere per il viso che ho letto delle recensioni che sono ottime perché tante sono coreane e sono molto molto buone allora cotton candy questa è una maschera che ha poi il disegnino vedete qua del zucchero filato giusto il cotton candy questa costa 0,69 anch'essa è vegana anch'essa aiuto è vegana maschera viso formula idratante aroma fragola maschera in foglie di bambù biodegradabile e non è male assolutamente per 0,69 centesimi vegana poi passiamo a due maschere sempre per il viso fresh fruit e fun e queste sono non dice di che queste sono coreane vegane e coreane questa presumo sia al cocco e questa sicuramente sarà alla ciliegia 0,59 per queste due maschere poi ho trovato delle mascherine molto molto carine e ne ho prese due per ogni tipo della disney principesse disney maschera di pulizia profonda del viso con estratti di foglia di perilla che non so che cosa sia deterge i pori e rimuove sporco e olio massaggiare il siero rimanente sulla pelle maschera a fogli di bambù biodegradabile mamma mia che meraviglia molto molto carine 0,99 centesimi come 0,99 centesimi le altre due di biancaneve vediamo questa che tipologia ha maschera viso rinfrescante e idratante arricchita di acido ialuronico 0,99 centesimi davvero davvero molto molto belle anche nei pecca anche per fare qualche regalo ce n'era un'altra ne sono sicura perché della disney ne ho prese no dimmi che ne ho prese tre della stessa tipologia un maria va bene ne ho prese tre non succederà assolutamente niente poi no 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 eccola qua che c'era vedete che l'ho trovata eccola qua questa è a raperonzolo e ne ho presa solo una mi sa che mi sono sconfonduta e non ne ho prese due ma me la tengo io e questa invece è maschera di pulizia profonda di viso arricchita di olio essenziale di t3 0,99 centesimi marca disney princess molto carine poi potevo lasciarmi scappare le bubble mask no e quindi due bubble mask al carbone attivo a 0,59 centesimi allora maschera appena la maschera viene a contatto con la pelle iniziano a formarsi le bolle non utilizzare ovviamente su pelle irritata o danneggiata sono davvero molto molto carine 100% la maschera è biodegradabile e non è da tutti 0,59 centesimi poi pensate di maschera poi dopo abbiamo finito ok ho preso questa maschera coreana allora vediamo vediamo maschera per il viso all'estratto di caviale nutre e cura la pelle stimola la pelle 0,59 centesimi ragazzi i prezzi se rimangono così sono veramente da urlo poi sempre una maschera coreana all'estratto di riso e andiamo a leggere maschera in fogli per il viso arricchita con estratto di riso addolcente e rinfrescante plastic free insomma poi ci sono è vegana ci sono un sacco di di free 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 quindi dovrebbe essere molto buona ed è coreana a 0,99 centesimi sempre della stessa tipologia al mirtillo 0,99 centesimi e al ginseng è ginseng rosso ginseng è lo zenzero dovrebbe essere molto molto carine e poi davvero questi prezzi se restano così sono favolosi poi ho sbagliato questo l'ho lasciato dentro qua ma ve lo faccio vedere lo stesso dei timbrini pasquali perché stavano già allestendo tutta la zona per le decorazioni di pasqua c'erano dei vasi di vetro alti così con dentro tutte delle piante secche dei fiori secchi e tutte le luci illuminate ma stavano ovviamente allestendo gli scaffali non volevo essere così maleducata nel reparto cancelleria però ho trovato questi timbrini e non me li sono lasciati scappare a 1 euro e 49 12 timbrini pasquali e di queste cose mi hanno detto che non c'era più nulla speriamo che poi reintegrino poi sempre Lucia si è acquistata un esfoliante per la faccia con i semini di kiwi e alfa idrossi acidi a 1 euro e 49 per 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 quanto è 75 ml e una maschera al questa si chiama la carambola il fiore della carambola mi pare che sia che sia sì sempre 1 euro e 49 per 75 ml e questi sono di Lucia e poi per farli rientrare nel beauty non lo so comunque c'erano questi cerotti muscolari e ne ho presi sono due pezzi di quelli grandi ma che si possono anche tagliare a 0,99 e questi se li trovo in offerta li prendo sempre perché servono sempre o mal di schiena o la cervicale o il braccio insomma vabbè le tacce le abbiamo e quindi li usiamo molto volentieri 0,99 centesimi e ne ho prese tre referenze poi eccolo qua l'altro deodorante che vi dicevo sempre a 1,98 euro energia fresca fresca energia della Nivea questi sono sempre buoni e a questi prezzi io non li lascio assolutamente poi ho preso Fab Factory Elegant Beauty questa guardate non l'ho neanche aperta la apro direttamente con voi sono 9 tipologie di ombretti e questa l'ho pagata 2 euro e no scusate 1 euro e 99 ho letto che sono molto buoni per 1 euro e 99 adesso la apriamo e guardiamo i colori vediamo un po' non li ho neanche aperti allora vediamo se ce la facciamo o se è incollato tutto mamma mia ah no è proprio incollato oh signora come faccio vabbè lo specchietto ve lo lascio dopo con calma perché spaccherei su tutto però i colori sono questi e sono meravigliosi sono proprio nelle mie corde ora vediamo com'è la texture oh oh che belli ragazzi ragazzi e ragazze la bambina che apre i pacchetti di natale avete in mente cavolina guardate 1 euro e 99 che meraviglia vado a vedere se ci sono altre colorazioni bellissimi 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 stupendi poi tirerò via c'è anche un piccolo pennellino che ovviamente io non utilizzo e devo riuscire a staccarlo dalla confezione perché è talmente incastrato ma Elena che ritardata che sei va bene ce la possiamo fare ce l'ho fatta ragazzi mamma ma che belli che colori bellissima guardate veramente veramente stupenda e questa tra l'altro ha anche lo specchiettino quindi non da poco molto molto bella e anche questa è vegana a un euro e 99 va bene ok fantastica 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 sono contentissima che sia arrivato action nella mia città poi come vi dicevo sto facendo ordine dovrei fare ordine e questa è la cassettina l'organizer trasparente per i miei beauty che adesso devo andare a sistemare e l'ho pagato 7 euro e 95 ci sono questi tre cassettoni belli grandi quindi qui sopra ci sta i rossetti ci stanno i pennelli come vedete molto molto bello devo metterlo assolutamente in uso lo ripongo qua e come chicca manco qui li ho aperti perché li ho sentiti con i tester ma poi non li ho neanche aperti adesso lo ascoltiamo ad avere delle amiche che comprano profumi e recensiscono profumi arrivo davanti allo scaffale dei profumi che era quello più disorganizzato di tutti nel senso che probabilmente la gente aveva toccato provato staccato non c'erano più i tester i tester erano da un'altra parte scusate il rumore qualche giorno fa avevo visto il video di Stefania Parvana Parvana Stefania che è la mia amica e aveva proprio recensito questo profumo non l'ho neanche provato al momento cioè ce n'era una referenza sola presa messa nel carrello poi sono andata a cercare il tester così ho detto vabbè intanto ce l'ho nel carrello se poi non mi piace lo rimetto e guardate che meraviglia allora già la confezione mi piace tantissimo il rosso poi quest'anno è il colore dell'anno ho comprato un sacco di rossetti rossi sto guardando dei tutorial per come metterli ho preso le matite rosse tutto rosso il rosso quando ero giovane lo mettevo ero snella bella magra mi mettevo i vestiti rossi adesso non li metto più però ci ritorneremo al rosso e quindi fantastico e adesso ce lo spruzziamo anche poi ve lo recensirò nei prossimi mesi perché qua bisogna assolutamente due le ecco qua mamma mia intenso fiorito molto buono buono brava stefi io mi sono fidata di te e ho fatto benissimo e questo è maurussia di slava zeitsev mosca e parigi molto molto carino questo l'ho pagato aspettate 11 euro poi mi è andata via la cosa perché l'ho cancellato però comunque 11,65 11 euro e qualche cosa per 100 ml di prodotto mamma che buono un profumo che si sente e invece questo che è capace capace esclusive caddy secret edition l'ho pagato 2 euro e 95 e anche questo mi era piaciuto tanto vediamo bella boccetta molto elegante nera mi mette la liquidizia guardarlo così che io amo la liquidizia lo spruzziamo dall'altra parte sempre prime impressioni fiorito fresco molto delicato che buono sono contentissima dei miei acquisti tra l'altro guarda che carino il tappo e poi va a congiungersi con il suo tappino anche questo 100 ml vi ho detto 2 euro e 65 una cosa del genere che buono questo è è buonissimo sono buoni tutti e due ragazzi allora come capite bene vale la pena se avete un discount action o action nella vostra città o nei paraggi di andare a farsi un girettino devo dire che le chicche sono i profumi e a parte tutte le massime delle maschere meravigliose e questa palette che trovo veramente veramente stupenda 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 lo so che vi ho detto che devo fare dei get ready with me o mi preparo con voi ma potevo farli soltanto posso farli soltanto la mattina dove la luce è un po' più bella ma in questi giorni di feste avevo in mente tutt'altro che fare il trucco mi truccavo o a volte non mi truccavo neanche bene spero di avervi dato ancora qualche idea carina per poter fare qualche acquisto comunque anche soltanto per andare a vedere le maschere vale assolutamente la pena ho letto delle bellissime recensioni anche dei trucchi ho letto delle belle recensioni i profumi vabbè si sa sono profumi che ci troviamo anche su fragrantica quindi andate a leggervi un po' le tipologie le note se possono essere nelle vostre corde a questo prezzo cioè 2,65€ 2,95€ insomma secondo me ne vale sempre la pena sempre che ovviamente vi piaccia io vi saluto vi ringrazio vi auguro una buona settimana e auguro un buon lavoro a tutti quelli che come me fortunatamente hanno iniziato soltanto oggi magari non congelate come me e la mia collega vi abbraccio e vi aspetto nel prossimo video un bacione e ciao grazie